Ah, beh, vedi, i media dicono che le maschere non servono a molto. Ehm, sei scemo? Sei scemo! Sei scemo! Sì, vabbè, calmati. Ah, è un demone! Un demone, un diavolo! Un de... Addio, Jill. Ah! DARS! DARS! Oh, oh, oh! Uwe, Stars Coffee. Vai avanti, díglielo. Sei tu! Io, il virus. Il virus? Il virus! Il virus! Il virus! Ehm, non è che ho molto da dire al momento. Ok, 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 here we go. Here we go, star stun. Starr! This is, uh, this is... Ooooooooh!